questa è carbon 3d che da una velocità fra le 25 e le 100 volte maggiore rispetto ai modelli oggi in commercio solidifica le forme in un bagno di resina liquida grazie al laser e all'ossigeno potendo creare qualsiasi tipo di oggetto dai più semplici ai più complessi l'idea è venuta al cofondatore della carbon 3d guardando terminator 2 il film di james cameron nel progetto google ha appena investito 100 milioni di dollari